Avete in testa una vaga idea di quanta gente è fuori condannata, dico fuori Italia, chiedo scusa, fuori Italia, chiarisco, fuori Italia condannata e non ne sappiamo niente. Ma non avete la minima idea? Quanti ne sono? Tantissimi. La Maiella, quando ne so? Porca miseria! Maiella sarebbe lei, in dialetto abruzzese, per non dire proprio quella parola. A bestia a voi, in alto insieme per i cento mischietti e qua sotto attivate la campanella per ogni aggiornamento di cuore grazie a ognuno di voi. Beh, non c'è mica bisogno che lo dica io, ci pensa Renato Pozzetto a dirlo, no? E la madò, ci pensa lui, non io, lui, è l'unico che lo può dire ufficialmente così. E adesso arriviamo al sodo. Sto signorino, signore, adulto, uomo ormai, scrive direttamente a Giorgia Meloni e dichiara e fa un nuovo caso internazionale. Ovvero, io ho le prove, ho le prove, Giorgia Meloni ho le prove, sono stato condannato ingiustamente e sono qui a Cuba, in quel di Cuba, da ben 14 anni. 14 anni, va là, sono qui dentro da ben 14 anni. Per favore, liberami, come per finire, così o così? Forse è meglio così, dai, forse è meglio così. Sono qui da 14 anni sono e sono innocente e ora ho le prove. Non ero a Cuba quando sono stato condannato per omicidio, non ero lì, non ero qui, anzi, non c'ero. E ora ho pronte le prove, prego Giorgia Meloni, fai qualcosa, liberami da qui. Un nuovo caso internazionale. Chiaro, non è Italia contro Cuba. Bisognerà vedere però se Giorgia Meloni va là, figa, risponda appunto all'appello. Sapete quanti ne sono in giro per il mondo che stanno vivendo la situazione di questo certo Pini, che poi bisogna vedere se è innocente davvero, eh? Sapete quanti? Verso il conto. Saranno centinaia di migliaia, no centinaia no, ma decine di migliaia sicuramente. Vorrei, cosa ne pensate? Credete a sto ragazzo? A sto signore?